Ben trovati al consueto appuntamento con informazione di Telebari e Radio Bari. E' ufficiale. Papa Francesco il 20 aprile prossimo sarà a Molfetta per accedere all'area interessata alla visita pastorale. Bisognerà dotarsi di pass. Il servizio di accreditamento che potrà essere effettuato tramite un'apposita sezione sul sito istituzionale del Comune sarà attivato subito dopo Pasqua. I pass consentiranno al pubblico di accedere all'area attraverso i varchi che saranno super controllati. Per l'occasione tutta la zona del porto ed intorni sarà interdetta al traffico sin dalla sera di giovedì 19 aprile. Così come le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi al pubblico sino al termine dell'evento. Non un fenomeno criminale ma un fenomeno sociale. Così il comandante dei Carabinieri di Bari, il colonnello Vincenzo Molinese, sul fenomeno dello spaccio di ascisce e marijuana tra i giovanissimi. L'intervista è di Cristina Ferrigni. Cerchiamo di agire su un duplice piano quello che è volto a sottrare dal mercato i quantitativi di sostanza stupefacente che poi viene commercializzata nelle varie piazze di spaccio e d'altro canto ad arrestare non soltanto i pusher, coloro che normalmente si occupano del mercato minuto della droga, ma soprattutto cercare di colpire quelle che sono le grandi organizzazioni che trafficano in sostanze stupefacenti. Il consumo di droghe cosiddette leggere sembra in aumento tra i giovanissimi, si abbassa probabilmente la soglia di età. Questo perché garantisce un guadagno facile? Effettivamente stiamo sequestrando tutti i tipi di sostanze stupefacenti, marijuana, ascisce, cocaina ed eroina negli ultimi periodi. I quantitativi maggiori sono riferiti appunto alla marijuana e all'ascisce, verosimilmente destinati anche per il minor costo alle generazioni più giovani. Il fenomeno migratorio, secondo lei, quanto è inciso sul reclutamento da parte della criminalità organizzata di pusher extracomunitari? Purtroppo la Puglia è geograficamente posta di fronte a dei paesi che storicamente ormai sono delle basi consolidate di produzione e confezionamento di sostanze stupefacenti. Non sono state rare negli ultimi tempi le operazioni di tutte le forze dell'ordine che hanno portato al sequestro di grandissimi quantitativi di marijuana provenienti dall'Albania con delle tecniche di confezionamento per quanto ci riguarda che hanno dimostrato anche una particolare expertise e quindi delle strutture produttive che sono molto ben e concretamente attestate in quel paese. Nella rete dei carabinieri nelle scorse ore sono finiti quattro spacciatori. Il primo arresto in via Piave dove un 29enne agli arresti domiciliari nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 34 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish. In via Crollalanza poi è stato arrestato un 35enne di origine Soma, la residente a Bari, sorpreso a spacciare un grammo di marijuana a tre giovani della provincia. Lo spacciatore è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre i tre acquirenti sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo quali assuntori di sostanze stupefacenti. Si sarebbe dovuta tenere il prossimo mercoledì la giunta territoriale all'Oseto Vecchia ma il rinvio al 4 aprile provoca la dura reazione dei residenti. Siamo abbandonati il servizio. C'erano una volta una farmacia, una gelateria artigianale e una macelleria, persino una sede di partito. C'erano una volta perché oggi non ci sono più, è da tempo. C'era una volta anche una giunta territoriale attesa da anni dai residenti del quartiere, l'Oseto Vecchia, ma anche per quella bisognerà attendere. Desiderata, chiesta, pretesa e urlata era finalmente prevista per il prossimo mercoledì, ma poi l'amara sorpresa. Sono gli stessi residenti ad avvisarci. L'hanno rinviata al prossimo 4 aprile, ci spiegano delusi. L'ennesimo segnale di scarsa attenzione da parte di un'amministrazione continuano, da cui si sentono ormai completamente ignorati. Ci raccontano degli unici esercizi commerciali aperti, un bar e un fruttivendolo, che fanno capo allo stesso volenteroso titolare. Ci raccontano della parafarmacia, che ha resistito finché ha potuto nella piazza centrale, prima di abbassare le saracinesche. Ci raccontano della delegazione comunale, che ormai apre poche ore alla settimana, in giorni neanche prestabiliti. Un gioiellino aveva definito il primo cittadino questa porzione di città, ma a nessuno sembra interessare davvero. L'età media, al di sopra dei 60 anni, i ragazzi letteralmente se ne scappano, per non parlare del cimitero, o meglio, della parte nuova, dove la parola nuova è ovviamente un eufemismo, perché la struttura, praticamente pronta, è inagibile da ben 15 anni. Cominciata sotto l'amministrazione di Cagnabrescia, non solo non è mai stata utilizzata, ma è ormai meta di ladri e vandali. All'Ipercop di Santa Caterina è stata arrestata una ragazza di 23 anni, sorpresa dagli addetti al servizio antitaccheggio, mentre tentava di nascondere nella sua borsa confezioni di rasoi, cercando poi di oltrepassare le barriere delle casse senza pagare. La donna sottoposta agli arresti domiciliari dovrà rispondere di furto aggravato. Piano economico, finanziario e tariffe Tari, se ne discute in Aula D'Alfino e non senza polemiche. Sentiamo. E scontro in Aula D'Alfino con consiglieri di maggioranza e opposizione in questo momento impegnati nella discussione propedeutica all'approvazione del PEF, il piano economico-finanziario delle nuove tariffe Tari 2018. Le tariffe, determinate sulla base dei criteri già adottati lo scorso anno, rimangono invariate e tengono conto dei quantitativi di rifiuti. Ma l'importo del PEF aumenta per il 2018 e pari a 73.183.000 euro, con un forte incremento rispetto ai 71 milioni dello scorso anno e ai 68 invece del 2016. E se per Palazzo di Città l'incremento è da debitarsi all'avvio del servizio di raccolta porta a porta, per l'opposizione l'investimento per il nuovo servizio avrebbe dovuto a questo punto già essere ammortizzato con un aumento della percentuale di differenziata decisamente migliore di quella invece che oggi si attesta. Immediamente in Italia si paga 300 euro all'utenza domestica, a Bari paghiamo 360 euro. Non va che nonostante abbiamo introdotto il porta a porta in molti quartieri l'accolta differenziata è ancora al 39%, quindi buttiamo in discarica ancora il 60%. Non va soprattutto che dobbiamo costruire un impianto di biodigestione nel quale conferire il rifiuto organico e consentire alla città di risparmiare moltissimo perché quei rifiuti non andavano più in discarica e venivano trasformati in biogas e questo impianto ancora non si fa. Insomma, l'azienda ha grave criticità che si ripercuotono sulla città. Il costo è aumentato di oltre il 15% a fronte di sempre più evidenti disservizi, prosegue il consigliere Michele Piccaro. Presentata poi dai consiglieri Melini, Mangano e Dirella, una risoluzione urgente per impegnare con certezza l'amministrazione a fare ricorso contro l'insediamento della Neuo e dell'inceneritore di Modugno. Questo spiega Melini perché il 2 aprile scadranno i termini per presentare ricorso, un atto già presentato dal comune di Modugno ma non ancora da Bari. In ala intanto momenti di tensione quando alcuni residenti della stessa Modugno hanno chiesto a gran voce la presenza del primo cittadino, però assente. Clean Air in Hospital si chiama così, il progetto pilota per il monitoraggio della qualità dell'aria indoor negli ospedali, messo a punto dall'Università di Bari. Sentiamo di cosa si tratta. È ancora in fase sperimentale ma presto potrà diventare un impianto stabile di monitoraggio per la qualità dell'aria negli ospedali e in tutti gli ambienti sensibili come scuole, supermercati, uffici pubblici. Si chiama Clean Air, il sistema progettato dai ricercatori dell'Università di Bari in collaborazione con l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, l'Università Clarkson di New York per tenere sotto controllo i parametri degli inquinanti nell'aria e quelli microclimatici. Il primo impianto con un allestimento del tutto originale in funzione da un mese nell'oncologico di Bari. È un progetto che porta finalmente anche negli ospedali, benché sia ancora sperimentale, la possibilità di controllare l'inquinamento indoor, cioè negli ambienti confinati, per verificare qual è l'impatto che questo ha sulle popolazioni esposte, in particolare nel caso dell'ospedale oncologico, dei pazienti e dei medici che sono lì. Noi ormai trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti confinati, pertanto è importante ancora più sapere qual è l'aria che respiriamo dentro piuttosto che quella che è fuori. Tenere sotto controllo i valori degli inquinanti dell'aria negli ospedali significa prima di tutto tutelare la salute dei pazienti e degli operatori e garantire standard elevati di qualità nei reparti, spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Le infezioni correlate all'ospedalizzazione, nonostante negli ultimi 60 anni si siano notevolmente ridotte, sono ancora oggi un problema. E tra queste infezioni, quelle legate alla qualità dell'aria, ovvero sia le batterie mie e le polmoniti, sono invece in notevole aumento. Questa mattina nell'aula magna dell'Università di Bari la premiazione agli studenti pugliesi che hanno partecipato al concorso La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio. È una studentessa dell'Istituto Tecnico Commerciale Franco Anelli di Castellana, la vincitrice del concorso La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio, indetto dall'Associazione Nazionale Vittime Civili. Tre scatti racchiusi in un album fotografico con immagini significative che racchiudono il sentimento di una bambina. Ho voluto rappresentare la guerra attraverso una bambina alla quale è stata distrutta la casa e appunto piange, però si svolge in positivo in quanto a questa bambina gli viene dato un pezzettino di pane e quindi la vediamo sorridere. La premiazione dei lavori nell'aula magna dell'Università di Bari è la presenza del rettore Antonio Ricchio. L'evento è la conclusione della campagna informativa Stop alle bombe sui civili, iniziato il primo febbraio in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime civili di guerra. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Un ben trovati, eccoci qui ad approfondire la tendenza per la giornata di martedì, una giornata con un break dell'instabilità sul nostro paese. Troviamo un debole momentaneo anticiclone, ma guardate come le perturbazioni raggiungeranno nuovamente gli stati centrali d'Europa con qualche fenomeno sulla parte settentrionale dell'arco alpino. Altrove variabilità ma senza grosse conseguenze. Ce lo conferma anche la mappa della copertura nuvolosa, una giornata che vedrà delle ampie schiarite. Al più di tanto in tanto un po' di variabilità di passaggio ma senza effetti. segnaliamo solo qualche isolato fenomeno sulla dorsale appenninica meridionale. Difatti guardate la prossima grafica, qualche piovasco l'abbiamo segnalato proprio all'estremo sud sulle zone montuose, poi non è escluso anche sulla parte occidentale della Sardegna. Altrove buono, guardate in pianura padana massime anche fino a 15-17 gradi, quindi si starà bene nel pomeriggio. E appunto i fronti atlantici che si addossano sull'arco alpino con deboli fenomeni sulla parte appunto confinale. Dettagli più precisi come sempre sull'app di Trebi Meteo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS